Spesso diamo dei compiti ai nostri pazienti e questi non vengono seguiti. È un problema. È un problema perché spesso i compiti fanno parte del processo terapeutico e se il paziente non li segue ci stiamo perdendo un pezzo importante per poterlo aiutare. Ma perché i compiti non vengono seguiti? Ci sono ovviamente tante ragioni, non le voglio esplorare in questi video, ma voglio andarne a vedere una, cioè quella dipendente da come costruisci i compiti. Il paziente non è un computer, non può illimitarti a inserire delle cose, dei programmi e aspettarti che lui le segua. Quindi devi tenere presente chi hai di fronte e fare delle cose specifiche, cioè adattare il tuo compito a chi hai di fronte. Il discorso è ampio, ci faccio tre video per spiegarti come adattare i compiti affinché tu possa massimizzare la possibilità che il tuo paziente le segua. E nel video di oggi andiamo a vedere che la prima cosa che devi fare, che puoi considerare di fare, è dare un rational, cioè un fondamento logico. Le persone, cioè anche tu, fanno cose che per loro hanno un senso. Oppure fanno cose perché si fidano ciecamente, ma è più complesso. E penso peraltro che nel momento in cui ci troviamo, nell'era storica in cui ci troviamo, è più difficile farlo nella relazione terapeuta-paziente, medico-paziente, autorità-autorità-paziente. Proprio perché l'autorità è cambiata. Il modello ippocratico che vedeva il medico, nel nostro caso il terapeuta, come il detentore della verità, adesso si è più orizzontalizzato. Tutta la realtà è molto più orizzontale e la percezione di ruoli è molto più orizzontale. Quindi aspettarti che la persona che è di fronte fa qualcosa solo perché tu hai una laurea appesa al muro è un'aspettativa che potrebbe essere, te lo dico francamente, tradita. Ma cosa puoi fare allora? Puoi dare un rational, un fondamento logico ai tuoi compiti. Puoi cioè aiutare la persona a comprendere perché deve fare quello che deve fare. Attenzione, non deve avere una spiegazione scientifica, non deve essere neanche oggettivamente vero, qualunque cosa significa, però deve avere un senso. Non c'è un solo modo di farlo, un solo modo di far sì che la persona dia un senso a ciò che le sta chiedendo di fare, cioè affinché la persona pensa che ciò che le sta chiedendo di fare abbia un senso. Dipende, ad esempio, dal tipo di persona che ti trovi di fronte. È una molto razionale? È una che va facilmente nel pensiero magico? È una che ha difficoltà nell'astrazione? Nel prossimo video vedremo quanto sarà importante usare un linguaggio suggestivo, però qui invece stiamo sul concetto di fondamento logico. Stiamo su un altro modo di poter aiutare la persona a dare un senso e ad eseguire il compito. È un modo tratto dagli insegnamenti della terapia breve centrata sulla soluzione, uno dei metodi che abbiamo aiutato a portare qui in Italia, grazie non a questo libro che ho qui dietro, ma grazie a quest'altro libro, Terapia breve centrata sulla soluzione, principi e pratiche, e che insegniamo nella nostra scuola di specializzazione, l'Istituto ICNOS. In realtà anche grazie a questo libro che ho qui dietro, perché con Michael parliamo molto di terapia centrata sulla soluzione in questo libro. Ed è un modo che si divide in quattro parti, quattro cose che devi fare per aiutare il tuo paziente a eseguire il compito, o meglio, per migliorare la possibilità che lui lo esegua. Numero uno, arrivato alla fine della seduta, fai dei complimenti. Non dei complimenti a cazzo, ma dei complimenti che ristrutturino la situazione in cui la persona si trova, cioè quello che ti ha portato. E dei complimenti che possibilmente vadano già nella direzione del compito che vuoi dare. Dopo ti farò un esempio per aiutarti a comprendere meglio, ma già quello che diceva Steve Deschaser ci aiuta a comprendere che cosa dobbiamo fare con i complimenti. Aiutare la persona a vedersi come una persona normale, con un problema normale. Due, dopo aver fatto i complimenti, assicurati di avere un accordo e di avere una ratificazione dell'obiettivo concordato. Immagina che tu stai preparando il compito, hai iniziato facendo dei complimenti per delle cose che la persona ha fatto, per il fatto che ha un problema ma lo sta affrontando, ci vuole lavorare, e adesso quello che fai è l'obiettivo, è questo, e noi vogliamo raggiungere questo tipo di risultato. Il farlo usa le parole del cliente, mostrati d'accordo con lui. Tutto questo aiuterà la persona a aumentare la fiducia, quindi la possibilità che poi esegua il compito è abbassare la tensione su quello che deve fare e sulla possibilità di trovare delle soluzioni al suo problema. E a questo punto, dopo i complimenti, dopo aver ribadito l'accordo sull'obiettivo, dai il rational, dai il fondamento logico su ciò che stai per chiedere. Questo si può fare in tanti modi. Può essere una spiegazione di quanto gli stai per chiedere di fare. Può essere una spiegazione degli effetti. Attenzione solo se tu non vuoi che la persona si concentri sugli effetti del compito. In quel caso puoi spiegare perché non spieghi qual è lo scopo, quali sono gli effetti. Per esempio, una formula che uso spesso io è quella di dire non ti spiego il motivo per cui ti do questo compito, perché non voglio che ti concentri sull'effetto col rischio di scombinarlo. Voglio che ti concentri sulla performance, sull'esecuzione del compito stesso. Poi ti darò la spiegazione degli effetti, ma dopo. Pre-irrational può essere anche una storia o una spiegazione pseudoscientifica. Spesso io tiro in ballo delle spiegazioni neurologiche che aiutano a dare un senso, che non sono ovviamente condivisibili al 100% da un neurologo professionista. Non sono falso, ovviamente, ma sono delle libertà poetiche che mi aiutano a far sì che la persona dia un senso a quello che sta facendo. Ovviamente non vuoi colonizzare né indottrinare la persona con le tue teorie. E può essere anche una modalità metaforica o suggestiva, ma di questo mi occuperò nel prossimo video. Quindi, il terzo punto è appunto dai un fondamento logico in diverse forme di quanto stai per chiedere di fare. E infine, numero quattro, dopo che hai fatto i complimenti, ti sei riaccordata sull'obiettivo, hai dato un fondamento logico a quanto stai per chiedere di fare, dai il compito. Assicurati che lo abbia capito. Nel prossimo video vedremo anche un pochino come puoi assicurartene. Spero che queste quattro linee guida ti aiutino a costruire un compito che poi il paziente alla fine eseguirà. È importante dare un rational, perché il paziente, di nuovo, non è un robot che puoi programmare. D'altronde, se ci pensi, considerarlo in questo modo potrebbe davvero non avere senso.